Buongiorno, allora io sono andata al lavoro, però il tempo non è dei migliori, beh comunque non credo, allora oggi, no noia, oggi mi vedrete struccata perché non avevo voglia di truccarmi e poi comunque perché ieri sera non avevo fatto una cena, è stato mio collega a cena e non mi sono obbligata, però diciamo che è non stata meglio, diciamola così, cioè nel senso siamo divertiti, sì, e poi l'abbiamo riportato a casa, poi non ci possiamo, appena siamo noi siamo, scusate, stamani non riesco neanche a parlare, stamani appena, ieri sera quando siamo tornati a casa, siamo subito andati a letto, io fu molto a casa in letto, mi sono addormentata, infatti stamattina ho un sonno che voi non avete idea, veramente, niente, stamattina si infatti oggi 10 e mezza, 4 e mezza faccio al lavoro e poi vado con mia mamma a far vedere la sua macchina perché la voleva cambiare, in più sento anche di questa promozione che c'è sulla jeep che vorrei comprare io, allora le gomme invernali non le metto alla fine, perché tanto poi comunque a aprile le dovrei cambiare di nuovo, quindi non ha senso che le cambio, e allora lascio quelle che ho, quando qua arriverà il momento che le devo cambiare, le cambio e le metto normali direttamente, mentre tanto poi quando se ne vica tre, allora a quel punto le metto, le metto le catene, è bella e se sta venire perché comunque io mettevo le quelle invernali soltanto più per una questione della strada, perché comunque per venire qui a casa nostra la strada non è delle migliori, quindi almeno così, si risolveva ogni dubbio, ora mi esce sonno stamattina veramente, però mi tocca andare al lavoro, quindi adesso mi esprigo buongiorno, allora, ieri poi non ho finito di vloggare, anche perché comunque sono scelta da lavorare sono dovuta andare da mia mamma a casa, perché appunto, come vi dicevo, dovevo andare, vi dicevo, ce lo dicevo nel vlog, e poi comunque questo probabilmente, o lo attaccherò a quello, se non lo faccio direttamente a me, comunque dovevo andare da lei, perché dobbiamo andare a vedere per la macchina nuova, quindi poi dovevamo dovute venire a prendere il mio ragazzo, perché sono scelati ai miei nonni, insomma un casino incredibile, quindi non ho potuto più vloggare, comunque sia, questo vlog fa comunque, cioè questo pezzo, il tuo vlog, l'attaccherò comunque quello lì, almeno così, è l'unico vlog, comunque, allora abbiamo fatto anche l'albero di Natale, poi dopo ve lo, quando torno a casa ve lo faccio vedere, è venuto molto bello, abbiamo messo le luci bianche, e poi dovremo mettere ancora la stella che c'è, quella che voglio mettere in terrazza, però ancora non l'ho messa, perché ci serve la prolunga, ancora non l'abbiamo comprata, quindi appena ho un minutino di tempo, vado e la compriamo, andiamo e la compriamo, per quanto riguarda il canino, allora abbiamo cambiato perché è venuto fuori che quello che dovevamo prendere noi ha un po' di problemi, e quindi allora abbiamo preferito cambiare l'idea, comunque, sto, poi vi spiegherò per bene la faccia, insomma, comunque, adesso sto andando al lavoro, oggi faccio solo mezzogiorno tre, e poi devo andare a prendere il mio ragazzo a casa dei miei suoceri, perché è a pranzo lì da loro, dovrò prendere il suo zio, e vanno lì, e vanno lì, mentre io vado a lavorare, comunque, adesso vado, perché se no faccio anche tardi, va che fra un'ora entro, voilà, sono uscita dal lavoro, adesso vi richiamo il mio suocero, perché mi ha anche chiamato, poi devo andare a prendere Marco, appunto, il suo genitore, poi si va a casa, poi è venuto anche mio fratello a portare il mobilino, quello che vi dicevo, però siamo a casa, ve lo faccio vedere, mo' è bellino da morire, a me mi carba un sacco, bene, siamo a casa, ve lo faccio vedere, in più vi faccio vedere anche l'alberino, perché abbiamo fatto l'albero di Natale. Allora, siamo arrivati a casa, questo è l'albero, nel presello, e poi mia mamma ci aveva comprato una pastella, che ho da mettere fuori, poi mettiamo anche il tubo, questo qui multicolor, e poi, il mobile, vi dicevo che ci ha portato, mio fratello, ovviamente è questo, rosso qui, molto carino, adesso andiamo a mettere il tubo in terrazza con la stella, voilà, abbiamo messo anche le rucine, tutto è multicolor, quella è la stella, c'è con una mamma, ora non posso farvela vedere per bene, perché comunque è intramente bagnato tutto, infatti io sarò anche comunque in ciabatte, quindi, comunque quella è la stella, e l'altro è l'alberino, il presepe, comunque adesso ve lo faccio vedere meglio, ve lo faccio vedere anche a cerdo, l'alberino con il presepe, abbiamo iniziato di colore bianco e rosso, abbiamo iniziato già a fare la scena, qui c'ho le lasagne, in atto c'è la pasta, con le polpettine, con le verdure, e io invece c'ho le lasagne con le patate e rosso, in bon roll dell'altro giorno, qui c'ho le mandato prima, e adesso vado a dare un presepe, mi unlocked so farò vedere quindi come Appetito? E questo è il cavolo di tutti i colori, mettiamoci l'alberino acceso, i cavolo è, questo qui è quello viola, dallo, verde, poi c'è quello normale, a questo, Visto che ieri sera siamo tornati e abbiamo fatto l'albero di Natale, siamo stata l'azione dai miei nonni, io ho attaccato anche questi, sono gli adesivi, quelli che si attaccano ai vetri, su questo noto ci sono questi, questi fatti così, mentre qua, sempre uguali e in più qui c'è anche questo, questo mi piace tanto, e poi qui, mia congata mi ha dato questa porza qui, che a me piace tantissimo, tra le borche ovviamente questa poi si vede così, la chiavetta, e poi c'è le borche anche poi fatte a croce, molto bella anche questa, molto bella, qualche giorno dopo sono andata a comprare la fontanina, questa qui, è Natale perché non si muore perché non si muore, poi c'è la qua, poi c'è una decorazione, la per te piace, per morire, mi ha comprato una mamma, poi mi piace anche questa, velocevosa, che vi avevo fatto vedere anche in un altro video, ma mi piace questa, mi piace tantissimo anche questa, è brillantissima, però non c'è brillantini, però, ma anche questa mi piace, mentre questa, questa, e questa, l'altra erano con di mia mamma, e poi stranamente il puntale sta dritto, tutti gli anni stava sempre torno, miracolo, abbiamo attaccato anche sull'oparese vicino al frigo, il calendario, poi ci avevano dato il mio posto quando abbiamo comprato la cuccia per il canino, non chiedo se ve la ricordate, ma questa pianta, praticamente, prima era là, nell'angolino, e adesso l'ho messa accanto all'eperino al presente, l'unica cosa è che le foglie, ah no, ma questa, me l'ha anche detto Marta, ce l'ha un po' già così di suo, è molto, è rossissima, è molto bella, 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 bella. Comunque, io adesso, che vado a lavare i denti, mi preparo per la notte, perché comunque, nel frattempo, no, mi sto andando a partire lento, spengo le luci fuori, e, dopo, se mi guarderò qualche video, su YouTube, poi andrò a letto, perché, tanto non so che fare, quindi, non c'è neanche niente alla televisione stasera, quindi penso andrò a letto, comunque, le luci ne? Sì, spazi, 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 comunque, scusate per il buio, ma, comunque, io vi mando un enorme bacio, intanto preparo anche me, mentre vi saluto, io vi mando un enorme bacione, vi auguro, la buona notte, adesso mi metto anche a montare il video, così, magari ce l'ho già pronto, comunque, niente, vi auguro la buona notte, vi mando un bacio, grandissimissimo, e, ci vediamo al prossimo video, ciao, buonanotte, anche da Portini Marco, ciao, ciao!